Una cosa, abbiamo organizzato un attimo una cosa, se puoi andare un attimo a lavoro, un attimo l'acqua, dove c'è l'acqua, non ti preoccupare, non ti diamo le foto. Fai la foto. Lucia Luci. Leon. No, no. Spendere il neon. Spendere il neon. Usama. Devi togliere il teolo bianco. Usama. No, apri gli occhi. Guardate il vanno. Ooooooooooooooooooooo. Adoro, non vi ora. Ooooooooooooooooooooo. OLE, benvenuti! Inizia, via Osama.